A Mauri Ribeiro si è appena conclusa la partita contro l'Ucraina, esordio in questo europeo. Come avete lavorato in questi mesi insieme alla squadra per prepararsi a questa sfida? Sì, sapevamo di affrontare una squadra forte, una squadra tradizionale sul sito in voli, una squadra che è stata sull'ultimo europeo finalista. Sì, sapevamo della difficoltà nostra, però abbiamo lavorato abbastanza sulla parte tecnica e soprattutto sulla motivazione che ci mancava come differenza per affrontare una squadra così esperiente. Io dicevo prima della partita che la nostra squadra individualmente forse sarebbe superiore tecnicamente alla squadra dell'Ucraina e questo abbiamo fatto vedere sulla partita e è stato così. Adesso basta guardare un po' più di fiducia per continuare questo campionato sempre in crescita. Grazie.